La chiesa, allenatore della categoria Pulcini, The Revolution Ski Race. Che dire, quest'anno la stagione è finita in fretta, ma non per questo siamo andati in vacanza, anzi, ci stiamo reinventando. In questo momento in cui tutti siamo costretti a restare a casa, abbiamo sfruttato l'occasione per fare altro. Abbiamo un bel gruppo di WhatsApp con cui messaggiamo costantemente con i nostri ragazzi. Loro ci mandano i video degli allenamenti che svolgono direttamente a casa loro o in giardino ed è bello vedere come riescono a trovare esercizi sempre nuovi e diversi. Il nostro intento è proprio quello, quello di riuscire a continuare a far parte della loro vita e a farli sentire parte di un gruppo, anche a distanza, e tenerli impegnati negli esercizi ci sembra il modo migliore. Abbiamo anche organizzato una piccola sfida in cui i ragazzi si facevano una foto indossando un capo della Revolution e la foto che ha totalizzato più like ha vinto il primo premio. Diciamo che questo periodo è per tutti sconosciuto e quello che accadrà non lo possiamo sapere, però è proprio nel sapersi riadattare che si fonda lo sci alpino e noi della Revolution Ski Race accettiamo questa sfida.